Tradizionale appuntamento di inizio settembre con la fiera secolare della Madonna di Rogoredo ad Alzate Brianza, inaugurata oggi e aperta fino a lunedì. Oltre alla mostra zootecnica con numerosi capi di bestiame, sono previste manifestazioni collaterali che spaziano dalla musica all'artigianato, dal folklore allo sport. Immancabili gli stand gastronomici dove gustare i prodotti tipici del territorio. Domani è in programma l'ottava edizione del premio Brianza in collaborazione con la fiera zootecnica detta di San Gaetano di Casatenovo e con l'associazione Percantù. Lunedì alle 9.30 sarà inaugurata la mostra provinciale dei suini in collaborazione con l'associazione provinciale allevatori. Contemporaneamente si svolgono la mostra concorso per bovini da ingrasso e da macello e la mostra delle macchine agricole da giardino. Da oggi a lunedì si potranno fare acquisti alle bancarelle della fiera merceologica a lungo via del Santuario, via Percantù e via del Lavatoio con oltre 120 espositori. Domani e lunedì si svolgerà anche il mercato degli agricoltori locali, dalla terra alla tavola, in collaborazione con Coldiretti Comolecco. In programma anche dimostrazioni sportive e attività per i bambini oltre al tradizionale Luna Park. Lunedì sera spettacolo pirotecnico per la chiusura della manifestazione. Grazie a tutti.